Let's go! Bentornati ovetti su Luigi's Mansion 2! Nello scorso episodio siamo stati nel cimitero delle torri tetre! Abbiamo inoltre catturato le tre sorelle e salvato Assis Todd! E oggi? Andremo a fare una bella festa in piscina? Anche se ormai il caldo se ne sta andando? Bene Luigi, ho decodificato l'immagine recuperata dal nostro amico Todd! Vediamo un po' cosa da dirci! Un attimo! Quella chiave! Ha tutte le carte in regola per essere speciale, non credi? Inoltre ha la stessa identica forma della porta nel grande albero, vabbè. Il bu la sta consegnando a quel fantasma porpora. È più rosa che porpora ma... Dovremo analizzare l'immagine con cura per trovare indizi. Puoi esaminare la scena inclinando il Nintendo 3DS. Nelle varie direzioni. Non intendi il doppio strillo? Vabbè, non importa. Bisogna in sintesi esaminare le parti interessanti di questa immagine 3D. A quanto pare, la piscina sul tetto è stata eletta a punto di incontro dei V. Quando sono in gruppo, il loro potere aumenta perché si nutrono uno dell'energia malvagia dell'altro. Già, e noi lo sappiamo bene, vero? Comunque, questi fantasmi rosa. Non avevo mai visto quel tipo di fantasma prima d'ora. Neanche io, se non in Luigi's Mansion 2. Allora, eccoci qua. Guarda quei fantasmi, sono fuori controllo. E i boo sembrano incoraggiare le loro malefatte. Energia negativa. E questo cos'è? Che cosa stanno trasportando quei boo? Qui fantasma ci cova. Sembra un quadro, eh? Molto interessante. Ehm, abbiamo finito di esplorare roba? Mi sa di sì. Ok. Sì, quella nell'immagine deve essere la chiave speciale che stiamo cercando. Sai, quella che apre la porta dentro l'albero cavo. I fantasmi cercano di tenercela nascosta perché non vogliono che raggiungiamo la cima dell'albero. E non vogliono che raggiungiamo la cima dell'albero perché è là che si trova il frammento di luna scura. No! Oh oh! Abbiamo a che fare con dei fantasmi piuttosto svegli. Anche se sono fantasmi. Luigi! Strambik non è così pazzo. Un po' lo è, però non importa. Ma non possono competere con l'intelletto dei viventi. Perché non hanno un cervello, letteralmente. Comunque il nostro obiettivo è un'altra volta la torre tetra di Ovest. Dunque, l'immagine riproduce la piscina sul tetto. Vai a recuperare la chiave speciale. Appunto. Oh oh! 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 Avete notato che l'intro della missione era leggermente diversa? Non quando Luigi cade. Intendo proprio il pixel trasporto. Chissà perché è così, vero? Comunque, prima di andare avanti, quest'albero ci ha sempre dato un bel po' di soldi. Quindi, a rigor di logica, dovrebbe darci altri soldi, giusto? Beh, sì. Qui, miei cari, c'è un verdino dorato. Quindi, meglio prenderlo prima di dimenticarcene. Ok. Perfetto. Sono tanti bei soldi. Inoltre, il prossimo potenziamento è a 20.000 monete. Ce ne serviranno un bel po'. Mi sa che non c'è nient'altro qui, nell'ingresso delle torri. Quindi, possiamo anche andare avanti. Vabbè, c'è qualche moneta extra. Però, noterete che l'edera sta crescendo a dismisura. E, in effetti, ora ci sono delle piante qui. Attenzione a non farvi mangiare. Potete, cosa che non vi ho ancora mostrato, stordirle rapidamente con la torcia. Fatelo. Vi servirà. Detto ciò, dobbiamo andare a sinistra. Giusto? Beh, sì. Sono cambiate alcune cose. Come, per esempio, ora ci sono questi... Questi... Ok, ho sbagliato un sacco. Posso uscire, grazie. Posso uscire, grazie. Perfetto. Ci sono questi fiori. Questi fiori arancioni. Si chiamano fiori arancioni. E sbatteranno la loro testa, insomma, sul terreno. Per provare a colpirvi. Ovviamente, dovete evitare di colpirli. Cioè, di farvi colpiri più che altro. Abbiamo già preso le gemme che stavano qua sotto. Avessi mancato la gemma nella stanza sotto di noi. L'avrei presa ora, ma non serve. Quindi, andiamo avanti. Ricordate questa stanza? Il vivaio. Ora è diverso. C'è un germoglio nel vivaio. Indovinate un po'? Questa pompa finalmente serve a qualcosa. Quindi riempiamo... O meglio, attiviamo il coso. Dovrebbe attivare il getto d'acqua lì. Ma c'è il fiore arancione qui. Quindi, mi raccomando, non fatevi colpire. Se non colpisce il pavimento, colpirà voi e ritornerà su in alto. Quindi, attenzione. Metapino, metapino. Comunque, abbiamo già visto una pianta molto simile nell'ala est. Quindi, cresci mia pianta. Cresci! E facci andare avanti. Posso salire? Devo premere X per salire? A quanto pare sì. Perché è una porta, tecnicamente parlando. Ora siamo nella stanza dei giochi. Mi sono appena ricordato di aver mancato una cosa. Però prima vediamo un po'. Qui c'è una bambola. Se giriamo intorno alla bambola in senso anti-orario, non troppo rapidamente a quanto pare, quindi mi raccomando, state attenti, possiamo svitare la sua testa. Svitando la testa della bambola, possiamo prendere la gemma numero uno di questa missione. Sì, lo so, ho mancato una al gemma. L'andremo a prendere adesso. Me ne sono ricordato ora. È qua sotto. E qui c'è una finestra. Possiamo ammirare la finestra per vedere che è la stanza in cui siamo. È strano. Inoltre, questo ci fa capire che le due torri, le torri tetre, erano in realtà un altro maniero, insomma. La torre centrale è stata distrutta grazie all'albero che è cresciuto. E a quanto pare devo controllare questo coso. Ehm. Sì! Ed ecco qui il verdino. Già, sponeranno un bel po' di verdini da quel coso, quindi mi raccomando, state attenti. Cerchiamo però di fare un bel flash e di evitare di colpire il verdino che sta laggiù. Perfetto. Non ti azzardare a farmi marameo. Marameo! Lo dico io perché ti ho appena catturato. Senti, smettetela. Fate di catturare entrambi. Così posso prendere un bel po' di soldini. E voilà! Circa. Oh yeah! Oh yeah! Allora, posso andare per di qua a prendere il lingotto. Perfetto. Ma prima devo andare a prendere la gemma che ho mancato. Chiedo scusa. L'ho mancata. Ora la sto andando a prendere. Il... Ok, funziona ancora. L'audio del poltergast. Mi raccomando! Ricordo che qui sotto c'è una trappola. Andando qui nel ponte sospeso ci sono un bel po' di fiori. Ovviamente. Non fatevi colpire dai fiori. E qui c'è l'altra gemma. Si può prendere solamente in questa missione e credo nella prossima. Quindi, occhio. Ok? Come ho già detto, non tutte le gemme sono disponibili in tutte quante le missioni. Alcune sono specifiche di determinate missioni. Come per esempio la penultima. Ok? Però qui, intanto, ecco la gemma. Bling! Ah, e sì. Prenderemo tutte le gemme mancanti in questo episodio. Già. Anche se ci manca un'altra missione piccolo spoiler ci sono sempre cinque missioni. Prenderemo tutte le gemme nella penultima e non nell'ultima. Sto escludendo i boss e le missioni extra per ovvie ragioni. Non vengono catalogate come missioni B trattino qualcosa. Questa è la B4, tanto per. Meglio controllare e magari trovo il coso d'oro. L'osso. Ok. Inoltre, qui è possibile vedere che manca qualcosa. Avrete inoltre notato che sta piovendo con dei fulmini. Lampi, più che altro. Davvero? Volevo le sfere espiritate, caro. Dammi le sfere prima che spariscano. Ok. Stavo provando a dire. La luce dei lampi illumina le cose nascoste ed è recentemente comoda. Davvero? Voglio provare a far dondolare questo coso. Dondola, dondola, dondola. Luigi's Mansion 1 era la chiave per fare robe. A quanto pare non il Luigi's Mansion 2 ma pazienza. C'è una porta qui, si vede dal, dallo specchio. E adesso, dovrei davvero controllare questi pipistrelli che danno fastidio. Ok. Vediamo un po' se sto per mancare qualche... Oh! Qualcosa? Meglio sempre usare la luce arcobaleno ogni tanto e tanto per qui c'è un quadro. Questi quadri sono tre. Sono, inoltre, dei tre colori delle tre sorelle. Quindi, presumibilmente, le tre sorelle vivevano qui. Ora controlliamo il quadro e... Boo! Sapevo che ti avrei ingannato. trabucchetto colpisce ancora. Ha ha! Capita? Trabucchetto! Ok, adesso, vieni da paparino, fatti succhiare la lingua e... Rimbalza dappertutto. Magari un po' meglio. Ok, è andato in Lapponia, ma... È comunque diventato un bellissimo marshmallow, quindi... Eccoti qua! Yes! Allora, ehm... Fatemi un attimo controllare mentalmente! Dove devo andare? A quanto pare non devo andare qui a destra, perché non c'è niente qui a destra, ma... Dovrebbe esserci un'altra cosa importante qui a sinistra. Ah, e c'è anche questo. Esatto, se continuate la canzoncina fino alla fine vi darà un po' di soldi. Niente di troppo interessante, però, grazie. E questo è il solarium. Il solarium è il posto dove... Sapete? Non so cosa sia un solarium. E dove si prende il sole? La sunroom? Vabbè, non importa. Ecco qui un'altra gemma. Bling, non l'ho detto. E queste cose sono estendibili. Queste scale sono estendibili. Non so perché, ma funzionano, quindi non mi lamenterò della cosa. Sento un rumore particolare. Mi sa che è la catena, ok. Prima di andare avanti, buco! Pijama party, ma non hanno vestiti, quindi, boh. Ah! Giusto, ci sono alcune trappole, o meglio, posti in cui è possibile cadere, qui, state attenti. Non importa, dammi questi, sono cuori che non servivano. Pazienza. Adesso, in questa stanza, non ci sono letti, ma abbiamo visto che ci sono. Se guardate in alto, se non sbaglio si vede. Esatto, è possibile vedere che ci sono delle righe, là in alto. È un modo per farvi capire che dovete usare il poltergast per fare così. Ed ecco qui! Gli occultini! Ovviamente, ci trollano, ma pazienza. Sappiamo già dove sono, e non cambieranno posto. Dovete in sintesi capire dove sono. Cosa un po' strana, visto che abbiamo già visto dove sono, vero? Beh, ora capirete che cosa intendevo. Non potete prendere gli altri due, se non dopo questo minigame. Dove, fortunatamente, so già dove andare, perché è abbastanza facile. Lo dico già da adesso. Cioè, seriamente, è il gioco del bicchiere della moneta, insomma. Niente di troppo grave. Allora, dove vai? Destra, centro, sinistra, ok. A quanto pare uno al centro e due a sinistra. Se sbagliate, credo che gli altri vi lancino qualcosa addosso e basta. O forse prenderete un po' di danno e qui c'è la chiave. Bling. Anche se è meno bling dell'altra. Parlando di meno bling, ok, sì, so dove sono le altre due gemme. Allora, qui possiamo rivedere attraverso il buco del solarium, ma non c'è niente. Non credo ci sia davvero niente poi, quindi manco a dire. Però, sempre meglio controllare dopo tutto, no? Allora, eccoci qui. e siamo o nel corridoio ovest. Intanto addio a questi ragni, ma siamo già stati qua. Ricordate? Io me lo ricordo. Guardando attraverso questa fessura possiamo vedere la chiave che in realtà abbiamo già visto era vicino al tetto della torre est e dietro questa porta che momentaneamente è chiusa, lo dico già adesso, c'è qualcosa di molto interessante. C'è il continuo della missione. Quindi dobbiamo tornare indietro verso la sala dell'organo. Ve la ricordate? Perché io me la ricordo. Abbiamo già controllato che qui c'era uno spaccone, quindi non serve di controllarlo. Ci sono molti più corvi però adesso. Se colpite i corvi vi daranno un po' di monete quindi cinque monete sono sempre buone insomma. Dove sono i corvi? Non importa. L'importante è che non mi tocchino. Ok. Ed eccoci tornati qui nella sala dell'organo appunto. Credo ci sia qualcosa da qualche parte o se non è qui è da un'altra parte ma pazienza. Ho fatto bene a controllare. Allora, dammi questi fogli e adesso che sono cresciute le piante possiamo gonfiare i palloncini per andare prima a destra. Il nostro obiettivo è a sinistra ma prima andiamo a destra. Perché? Perché ve lo consiglia il vostro carissimo Tonksy Boy. Qui c'è una porta. Questa porta è molto particolare. Ricordate quando vi ho detto delle zone extra? Questa è una zona extra ma il premio di questa zona è incredibilmente interessante. Non sono soldi. cioè sì tecnicamente perché sto prendendo qualche moneta ma il vero premio se riuscite a prendere tutte quante le monete rosse è un'altra gemma. Piccolo spoiler. Ora apriti. Eccoti qua. E non solo. Questa è una delle poche gemme che si può prendere solamente in una determinata missione perché questo coso questa porta spawna solo qua. Insomma. Quindi attenzione. Noterete inoltre che questo coso è leggermente diverso. quindi gonfiamo il palloncino e cerchiamo di prendere più monete possibili. È un minigioco questo quindi devo riuscirci perché è bello riuscire a fare robe qua. Ok. sgonfiati in fretta e Tonks ce la fa. Se riuscire a prendere tutte quante le monete volanti in tempo spawnerà questo scrigno che vi dà una piccola ricompensa extra che non si butta mai. Allora adesso però devo riprendere un palloncino vieni qua ok rigonfiarlo stavolta andare a sinistra e prendere la chiave. C'è un qualcosa di interessante se tornate al tetto giusto c'è un'altra trappola qui perfetto dicevo al tetto est credo di no quindi è inutile andarci però qui c'è la chiave quindi give me my key bling potrei tornarci un attimo perché mi sa che ci posso andare eeeh beh possiamo cadere qua per fare prima e non prenderemo neanche danno quindi grazie eeeh no sembra che non sia possibile andarci ok perché la porta è sbarrata buona sapersi e tanto per tutta la torre est è bloccata ok ci sono dei viticci sulla porta di destra eeeh nel giardino principale insomma e tanto per qui dovrebbe esserci ancora il tizio rosso esatto perfetto quindi andiamo da lui perché si sentirà solo no? inoltre perché non catturarlo e non so devo parlare devo dire qualcosa adesso però apriamo la porta ed eccoci qua il fantasma appare solamente nello specchio ma è possibile vedere benissimo dove si trova quindi grazie eeeh no 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 meglio prendere oh pensavo fossero due in realtà era il riflesso dello specchio ma non importa dicevo volevo prenderli entrambi ma eh meglio fare così è più facile prendere verdini singolarmente che in in coppia ce ne sono altri però vero? oh si lo vedete? qua sotto dai eccolo qui questo qui è un nuovo nemico è a vita infinita non ricordo però il suo nome già state attenti basta aspirarlo un po' come i possessori i boss perché ha vita infinita appunto e possiamo adesso prendere l'ultima gemma che si trovava nel carta igienica perché non lo so ma funziona così qua c'è un bidet qualche altra cosa che posso controllare che magari mi da qualche soldo extra o qualche cosa interessante grazie eeeh grazie ho detto ok vediamo un po' il flash per caso si riflette leggermente qua nada de nada e allora riposiamoci sulla sedia sdraio con il nostro drink a base di cocco oppure no cocco di mamma cocco dovevo farlo dovevo assolutamente farlo e adesso che siamo sulla piscina sul tetto possiamo ottenere la chiave ricorderete che abbiamo visto l'immagine a inizio episodio giusto e laggiù manca una statua di rane quindi eccola qua possiamo anche cadere nella piscina lo dico subito perché magari qualcuno ha paura no si può cadere senza nessun problema qua dentro e bisogna cadere qua dentro perché la chiave cadrà qua dentro un'altra specie di fantasma esatto questi qui dovrebbero chiamarsi spaventini credo però in sintesi proveranno a spaventarvi e se ce la fanno interromperanno il vostro risucchio insomma state attenti fortunatamente anche se spariscono si possono ben vedere sull'acqua quindi va tutto quanto bene vai così ce ne sono un bel po' di solito attaccheranno Luigi da dietro dalle spalle quindi occhio esatto vi possono spaventare non vi faranno danno però quindi è una cosa buona da dove vengono ok perfetto no danazione ok volevo provare a prenderli insieme ma quanto pare non ce la sto facendo ok prendiamoli uno per volta e basta così no no lasciami 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 ok allora carichiamo il colpo stavolta e flash ok almeno uno l'ho preso vero si mi spaventi non mi interessa ok potete provare a prenderli quando scappano dopo averli spaventato e in effetti vi conviene farlo perché si e con questo abbiamo finito prima di prendere la chiave devo controllare se ho mancato qualcosa qua ma credo proprio di no ok e quindi l'episodio si conclude qui no 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 bad doggy vero strambic yellow spettracci da dove è saltato fuori quel cane fantasma e ora è anche sparito nel nulla bah fastidiosa palla di pelo ectoplasmico ti riporto indietro oddio ok era la cacca del polter cucciolo adesso l'ho capita come sono andato mio caro tre yeah tre stelle oh la la wow Beh, non me l'aspettavo Dobbiamo recuperare la chiave speciale Ad ogni costo Ho cercato di localizzare il quadrupede con il parascopio Ma sembra che se la sia data a zampe Ti è piaciuto il gioco di parole? Come dici? Sì, meglio menare il camp per l'aria Per l'aria? Per l'aia D'accordo Allora svuotiamo il poltergast 5000 Mi pare che tu abbia ciuffato un nuovo tipo di spettro Due nuovi tipi di spettro, Strambik È vero però che gli spettri viola Sono più rari Sono molto meno comuni Ma sono più comuni nel grattacielo Però se lo vedremo lo vedremo molto più in là Eccolo qua Nuovo Fantasma Bu E ci metterò davvero i secoli ad arrivare a 20.000 Non importa Dunque, dove eravamo? Ah sì Cercherò di sintonizzare il parascopio E scoprire dove si nasconde il botolo paranormale Tu perché non ti riposi un po', figliolo? Beh, potrei, mio caro Strambik Ma prima voglio vedere i nomi dei cosi che abbiamo appena catturato, quindi Chiave Dove sei? Non oggi No, no, no Che maniero tenebroso Ok Cavo di Strambik Andiamo Ah, e posso approfittarne per mostrarvi almeno i nomi delle tre sorelle Le descrizioni sono un po' lunghe Quindi le leggeremo quando avremo un po' di tempo extra Però Ecco qui intanto I ninjasmi Si chiamano così Ok E poi abbiamo Devo tornare indietro, ok I stritolatori Vi possono dare un po' di fastidio in effetti Però basta aspirarli un attimo Farli tornare a forma di fantasma E poi Fine Sono easy Qui poi abbiamo Lusinda Belinda Ed Irlinda Lo so Ci sono altri fantasmi qua Altri fantasmi qua E poi ci sono i verdini Ma non li portano Quindi Nella prossima parte Di Luigi's Mansion 2 Andremo avanti Alla ricerca del poltercucciolo disperso Che ha rubato la chiave E poi Poi boh Faremo altro See you Next time